buongiorno ma mamma ma questa porta è chiusa ma come può essere buongiornina dal cuore a tutti un salutino da marcello che ha abbandonato facebook no facebook youtube che cosa triste io sono la faccia lo dimostra sono sveglia tipo da tre minuti e oggi è una bella giornata perché andrò a mangiare il mio primo giapponese io non ho mai mangiato sushi in vita mia e vloggerò questa cosa perché ormai sono una youtuber è bellissimo il mio comodino con questa luce rosa di che ha pagata 2,80 euro è fantastica ho rifatto il letto e ne approfitto per farvi vedere queste fantastiche lucine che abbiamo messo sulla spalliera che le trovo carinissime le ho comprate da casanova ad un prezzo irrisorio tipo 3,80 euro sono carinissime perché nel muro fanno questo effetto fantastico ho preparato la colazione due colazioni diverse perché io sono a dieta e stefano no e quindi che tristezza la colazione di stefano è il pandoro con la compiella e questo pandoro ha tra l'altro una storia bellissima perché noi sotto natale non abbiamo comprato il pandoro seguendo la nostra regola di non comprare mai nulla a prezzo pieno e quindi abbiamo detto ma va dopo natale i pandori te li tireranno a pressa un euro quindi non abbiamo mangiato il pandoro finito natale non abbiamo più trovato pandori in giro ed eravamo sconsolati ieri invece andando in giro in un supermercato l'ho trovato quello della bauli e l'ho comprato e quindi stamattina può mangiarsi il pandoro ho trovato il mio cerchietto al ladro è bruttissimo è venuta a trovarci la mamma di stefano che conosce la nostra dipendenza per il pandoro e ci ha portato altri due pandori adesso vivremo una vita di grasso sono le 11 passate io mi sono truccata un poco non lo so fare quindi sono una capra però almeno mi sono resa un po' più presentabile e mi sono vestita vabbè niente di che comunque ho questa maglietta di star wars della linea di zuiki da zuiki è successa una cosa molto spiacevole che non so se raccontarla o no perché non fa molto onore al negozio è sicuramente l'ultimo capo che acquisterò da zuiki ho preso questa e la felpa perché sono stata obbligata se non avrei preso nemmeno quello quindi vabbè ho la giacca benetton gli unici jeans che ancora mi vanno infatti devo andare a fare spese se non posso più vestirmi e uscire di casa e adesso aspettiamo che si faccia ora per andare a provare per la prima volta in vita mia in giapponese stiamo andando al giapponese che in realtà mi ha appena detto mi ha appena rivelato che sarebbe un giapponese è uscito e corso fuori non so perché mi ha appena rivelato che in realtà è un giapponese non è proprio un giapponese è giapponese perché l'unico che qua fa lo you can eat possiamo mangiare senza spendere anche se io mangio poco quindi non so quanto convenga però è tornato si ne ho avviso e quindi evviva ho fame io ho stata tantissima fame però ho paura che non mi piacerà nulla di quello che ho preso perché a me non piace il pesce è intelligente è santo steve è arrivato il tofu fritto come prima cosa io non so nemmeno usare le bacchette questo è buono sembra tipo un formaggio fuso vero? non è male non è male io sto solo sentendo l'odore di pesce e sto per vomitare non so se riuscirò a mangiarlo questa sembra l'unica cosa appetibile per me questo anche va bagnato si e a breve stasera il video dell'intossicazione alimentare di Marika wasabi salato no non lo hai mangiato? no chè non ho quell'estima non ho che il tivo che è successo? c'è successo? no Lui ride, ma io sto per vomitare. La cosa è stata disastrosa e io sto per vomitare e penso di non mangiare più niente. Adesso apre il biscottino della Fortuna perché questo è un ristorante giapponese. Non lo voglio rompere. E' di pietra. Apriamo. E' una cosa lunga. Tu incontrerai una persona che ti aiuterà ad avanzare con professionalità. Ma si può mangiare questo? Sì, è cartone. Buono! Adesso mi mangio il waffle. Avviva! E' contenta che mi manda il waffle? Guardate che bello. Si vede? Sì. Ci piace. Buono. Poi a caramello. Io non posso dire di no a caramello. Ragazzi, di cioccolato. C'è un po'. Io non avevo fame di più, cioè. Da un po' mi mangiavo pure la vaschetta. E' bello che questa mattina ero tutta entusiasta. Andiamo a mangiare il giapponese. Che schifo, vomitando. Burger King. Mi sono scordata di comprare l'albume. Ho detto che tanto poi andavamo all'Erospin. Guarda, prendimi pure le figurine. Io quando ero piccolo ce l'avevo. Se no solo con l'album che ci facciamo. Ora sono al negozio della mia amica Giulia. Fantastica. Stiamo provando un po' di look per Marika. A un negozio a Caserta. Che si chiama, come si chiama? Via Orei. Via Colombo. Via Colombo. Se siete a Caserta, insomma, venite. Mi hanno vestita, insomma. Io non lo so. Non... E' soltanto un primo esperimento che ci hanno bocciato, però. Tu non direi che ti dissono. C'è Sonia che non vuole essere ripresa. Va bene. Adesso vedremo altri look. Dai. Qui le risate sono tutte sui sti tacchi su cui non so camminare. Perché sono molto poco sexy. Secondo outfit scelto da Sonia. Guardate questo pantalone quanto è figo. Tra l'altro ho rubato le scarpe a lei perché sono sue. Guarda ci stanno benissimo. Puoi incollare nei miei piedi senza scarpe. Va bene, cioè. Però con le calze fighe. Terzo outfit fighissimo. Questo è veramente figo. E andiamo a comandare. Cyberpunk. No, ma con le questioni di tira. Eh, che stacco di coscia. Questa amicetta è stupenda. Bellissima. Qui si vede il reggisena e le poppe che non ho. Eh? Figa, figa, figa. Quindi è già nemmeno. Perciò. Mi piace molto il giacchino. Brava, ci favo bene. Bello, vero? Beh, no. Non ho accaccato nessuno. Molto bene. sono tornata da pochissima a casa avevo una fame assurda e quindi ho mangiato in frettissima tipo quattro polpettine così che mi aveva dato mia mamma quando siamo andate a pranzo domenica cazzo che giorno è oggi? no, vabbè no, erano ancora buone comunque e quindi ne ho mangiate in strafrettissima con tre cracker dall'acqua l'epilogo della giornata è stato che il sushi mi ha delusa ho capito che il pesce non mi piace quindi non ci riproverò poverino Stefano a cui ho fatto pagare il pranzo e non è dovuto mangiarsi tutto lui di controvoia perché eravamo andati all'Ulukanit quindi poverino quindi niente io penso che questo vlog finirà qua spero di fare un vuotaitina dei domani o dopodomani ormai ci ho preso gusto niente spero che qualcuno li veda tu mio caro visitatore spero che questo video ti abbia fatto piacere ti abbia fatto sorridere iscriviti metti un pollice no non lo so però va bene chiudo qui questo vlog spero di rivederti presto mua mua